Lavori in un mercato che non è che ha subito dei cambiamenti, ha subito delle rivoluzioni inimmaginabili. Ti vorrei chiedere questa cosa, lato senior e lato junior, come è cambiato anche nel day by day il lavoro dei senior nel mondo della comunicazione e dell'informazione e come è cambiato il lavoro lato junior per coloro che entreranno in Mediaset? Certo, sono due punti di vista opposti, quindi la parte di prodotto e la parte di organizzazione è estremamente complessa. Spero di riuscire a sintetizzarli in maniera chiara. Qua abbiamo solo domande difficili perché ne approfittiamo. Me ne sono reso conto. Come è cambiato lato prodotto? Allora, sicuramente il dato rilevante è che sono completamente cambiate le abitudini del pubblico. Quindi è diventato più difficile intercettare le abitudini di consumo del prodotto televisivo da parte del pubblico. Quindi i professionisti della comunicazione, supportati dal marketing, del marketing strategico, dall'analisi, hanno nel corso del tempo spostato molto di più la loro capacità e la loro attenzione, oltre che sulla parte di creatività pura del contenuto, proprio su quegli strumenti più da marketing che li permettono di comprendere le abitudini nel pubblico. La fruizione di televisione nello specifico è molto frammentata, l'esplosione del digitale terrestre ha amplificato quello che sono i canali a disposizione del pubblico, l'avvento delle nuove tecnologie, penso al mobile, e le nuove generazioni hanno spostato la fruizione o stanno spostando parte della fruizione su altri device. Il dato che ci conforta è che per quanto riguarda l'informazione, la televisione rimane centrale comunque nella fruizione di contenuti di tipo informativi e quindi ci permette, soprattutto per quello che è il mondo dei giornalisti, di non aver dovuto stravolgere il modo di fare giornalismo, se non di accentuare quello che è la verifica delle fonti e quindi la veridicità e la credibilità, l'affidabilità del nostro prodotto di informazione. Noi facciamo lotta alle fake news, non solo con lo sfatare di volta in volta la singola informazione, ma alzando il livello della qualità della nostra informazione. Quindi paradossalmente anche questo tipo di sviluppazione ci ha spinto a alzare il nostro livello di qualità, che comunque sia indipendentemente dalla piattaforma di distribuzione, la qualità content is the king, la qualità rimane centrale. Quindi, come è cambiato il mestiere di chi fa comunicazione? Maggiore e sempre più attenzione al pubblico e al segmento di pubblico di riferimento e innalzamento della qualità in termini di contenuto. Come è cambiata il modello organizzativo? È cambiato tanto, soprattutto perché è cambiato molto anche l'approccio delle nuove generazioni al lavoro. Si comincia a parlare di smart working, ci sono anche aziende nello scenario che lo attuano. È proprio cambiato il rapporto. Questo che cosa vuol dire? E torno al mio day by day. Come arriviamo a una gestione efficace delle risorse? La parola chiave principale è responsabilità. Ciascuna persona all'interno dell'organizzazione deve essere responsabilizzata. Come lo facciamo? Per raccontare anche un po' di vita pratica, con continue riunioni e incontri con le risorse. Gran parte delle nostre giornate sono dedicate a incontrare non solo il responsabile del settore, ma tutti i settori. Se dobbiamo operare per esempio uno stravolgimento o un cambiamento all'interno di una segretaria di redazione, quindi una struttura molto operativa composta da una trentina di persone. Sicuramente la linea strategica è decisa a livello di direzione, di alta direzione, ma come poi la strategia, quindi penso alla fase tattica, deve essere poi attuata è frutto di una condivisione con ogni singola risorsa. Quindi una serie di riunioni di confronto reali, in cui le risorse vivono un clima gestionale, in cui si sentono autorizzate ad esprimere una propria opinione, purché non sia una critica fine a se stessa, ma sia un'idea, un apporto di energia positiva, di modo che ciascuna persona abbia non solo la sensazione, ma possa vivere il fatto che il cambiamento è un passaggio che avverrà anche grazie al suo contributo e questo fa ingaggio delle risorse. Quindi continui confronti, delega, delega molto forte, quindi indipendentemente da quello che è la posizione all'interno della gerarchia aziendale, ciascuna risorsa in logica di ingaggio deve sapere che ha una responsabilità piena dell'attività che gli deve essere affidata. Quindi rimanendo nell'ambito per esempio della segreteria di redazione, se il modello organizzativo prevede un contatto verso l'esterno piuttosto che qualunque risorsa viene attivata sempre a prescindere, non esiste un'attività più belle per cui le fa qualcun altro. Ogni risorsa ha una responsabilità propria e la gestisce fino in fondo. Delega sarebbe nulla senza controllo, per cui semplicemente con dei meccanismi interni di verifica, non di controllo, che tutto sia andato a buon fine, che non prevedono, se non in casi di gravità ma di altro tipo, un provvedimento qualora qualcosa non abbia funzionato, ma al contrario se qualcosa non ha funzionato prevedono un momento di confronto per fare un'analisi reale e accurata di ciò che non è andato e delle ragioni che hanno portato un disservizio. Devo dire che se penso appunto al nostro modello dell'informazione che vede una produzione quotidiana di telegiornali in onda, quindi una produzione a palinsesto ricca, corposa, ma abbastanza calendarizzata, devo dire che questo modello si evince molto nel momento in cui capitano purtroppo fatti magari che ci portano a straordinarie, penso a tentati terroristici piuttosto che, che vedono improvvisamente l'organizzazione dover rispondere fuori dagli schemi. Devo dire che le risorse stesse si attivano autonomamente su un modello organizzato per contribuire ai risultati e questo per noi è un grande successo. Grazie.